Recensiamo oggi la Vidar Elite X, la pala di Zalo Rubio. A rete le volle vanno accompagnate per bene col movimento per generare profondità, per l'effetto ci pensa il piatto finemente ruvido. I colpi dall'alto sono una vera gioia. La potenza che sprigiona la Elite X è sorprendente. Per 3, per 4 vibore profonde smash che tornano nella propria metà campo col giusto movimento saranno all'ordine del giorno. Vidar Obasta Elite X è una pala inaspettata, di qualità costruttiva altissima e con un prezzo comunque importante, dato che parliamo di 313 euro. È indicata al giocatore che ha mangiato colivalente e che cerca anche potenza nei colpi. È una pala che potrebbe piacere molto agli extendisti che cercano potenza senza perdere il controllo.